Musica Quest'anno ricorre il decimo anniversario del programma di intrattenimento 7LiveTV. Abbiamo deciso di celebrarlo con un evento nella città di Giaveno il 16 settembre alle ore 20 e 15. Ora Carlo Giacone, il sindaco della città, ci fornirà maggiori informazioni. Un grande ringraziamento a Rete7TV e a 7Live per la costante presenza sul nostro territorio di Giaveno e la Valsangone. Vi do un appuntamento importante il 16 settembre in Piazza Mautino. Festeggeremo il decimo anniversario di Rete7 e 7Live con un grande spettacolo, musicisti, ballerini, cantanti. Una serata che ci regalerà tantissime emozioni. Sotto un cielo di ombrelli colorati dove allegria e voglia di stare insieme, si intreccia cultura, moda, spettacolo, bellezza e no gastronomia, sapori e profumi della nostra tradizione e della nostra storia. Il fungo di Giaveno, il pane di Giaveno, la patata di Giaveno, ma anche formaggi e salumi fatti dai nostri produttori con antiche ricette di montagna. Venite a Giaveno, ogni giorno un perché.